L'Umaggio è qualcosa che fa parte delle tradizioni denota, come si dice, perché un tempo era usanza appendere un ramo d'alloro sopra le cantine in cui si era aperta una nuova botte di vino. E tante saranno le nuove botti all'ottava edizione delle Cantinette di Petriolo, la festa dell'autunno marchigiano che porta nel centro storico del piccolo borgo maceratese migliaia di giovani e non alla scoperta delle tradizioni e al sano divertimento con tanta musica, vino e specialità gastronomiche tipiche locali, tra le quali spicca l'Ucuticusu. È una specialità tutta petriolese, una sorta di zuppa, ma le cuoche sono molto attente a tenere segreti tutti gli ingredienti, quindi solo loro lo possono fare e quindi per forza bisogna assaggiarlo a Petriolo, non si può riprodurre. La festa nel corso degli anni ha allargato sia i suoi spazi sia le collaborazioni con varie associazioni. Questa associazione culturale quest'anno terrà un reading musicale, la domenica pomeriggio, il titolo del reading è San Marco e San Martì sera parente, proprio per rimarcare il legame con Petriolo, un reading che hanno preparato appositamente per le cantinette che renderà omaggio alla poesia dialettale di vari poeti del territorio, quindi sarà un bello omaggio ai poeti vernacolari e alle tradizioni. L'associazione dei genitori di Petriolo, che è un'associazione che si è costituita da poco tempo, relativamente poco tempo, da un anno, si occuperà dell'intrattenimento per bambini e un'altra associazione importante è l'associazione Sciarada, a Petriolo in occasione delle cantinette esporranno una mostra fotografica. Come abbiamo sentito, molti appuntamenti e molti gruppi che si succederanno nelle varie piazze ovicoli, dai Porto Flamingo a One Plaza Café, dalla band Le Rimmel al gruppo spontaneo delle tradizioni popolari Petriomia. Ma tutto il programma si può trovare su internet. Alla pagina Facebook, che si chiama Le Cantinette Petriolo, oppure al sito della Proloco www.propetriolo.it, lì troverete sia indicazioni stradali che maggiori dettagli sulla festa. Le Cantinette è sicuramente un appuntamento imperdibile, buon cibo, buon vino, buona musica, o direi che è meglio di così 8, 9 e 10 novembre.